Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. So benissimo che lo scorso video, il video dell'ultima volta praticamente, non si sentiva nulla, perché ho sbagliato a mettere il microfono, ho fatto l'errore anche di togliermi le cuffie, quindi praticamente è stata una cosa orrenda. In fase di montaggio, nonostante io nel video avessi detto che non modificavo mai la voce, ho dovuto un po' modificarla per forza di cose e quindi l'ho dovuta aumentare un pochettino. E nonostante io l'avessi proprio messa quasi al 400%, non si sentiva nulla comunque, si sentiva molto molto basso. E quindi adesso ci riproviamo, ma se sentite tutto questo... E' praticamente perché stanno facendo i rumori vicino a casa mia e quindi c'è questo camion che continua a fare casino e io lo sento dalle cuffie. Lo sento tantissimo, quindi mi dà anche molto molto fastidio, quindi vedrò poi l'andamento del video. Oggi vorrei mangiare qualcosa, come sempre a me piace tantissimo mangiare. Quindi proporrei di mangiare qualcosa insieme. Andiamo di biscotti, sempre dolce quindi. E ho preso questi biscottini, non è altro che riso soffiato ricoperto di cioccolato. Apro la confezione. Io amo questi biscotti, cioccolatini, non so che cosa siano. Sembra come se frizzassero, perché appunto il reso soffiato appena lo si attenta diventa tipo... No, che diventa il mezzo soffice e non so spiegarlo, ma penso che comunque abbiate capito. Non so spiegarlo tutto. Intanto comunque cato nel pezzi, quindi... Non so spiegarlo tutto. Non so spiega che Sì, sì, sì. sono consapevole del fatto che forse non è bellissimo da vedere invece sentissimo il rumore e soprattutto so che per gli amanti appunto di questo suono non avrà molto peso lo schifo che sto facendo sopra la scrivania intendo perché continuano a cadere briciole e appunto mangiare in camera non è molto igienico e ghiacciate è ghiacciadissima non sopra la risposta non sopra la risposta non sopra la risposta bellissima Sì, sì, sì. Basta Penso di non farcela più perché sono dolcissimi Anche perché ne ho mangiati un bel po' Il problema è che io non so quanti ne taglierò Perché passano delle macchine di continuo Quindi in questo video Mentre in tutti i video che farò Che comunque mentre mangio Passano le macchine Il rumore delle macchine è più alto Del rumore che faccio io Quindi dovrò tagliarlo Perché una volta che monto il video E mi accorgo appunto che Il mio suono non si sente Dovrò tagliarlo E quindi Io mi ritrovo sempre a O buffarmi di roba per fare il video Però poi nel video Abbaiano due cose Quindi io adesso non so Quanti biscotti Avete visto? Anzi Scrivetemelo nei commenti In modo che io possa capire La prossima volta E magari fare il video In un orario decente Decente per me O dovrò fare un video In un orario in cui Ci sarà massimo silenzio Quindi la notte Devo giusto capire Anche il giorno Perché nel fine settimana C'è più Trofico C'è più C'è più via vai Niente Questa era una cosa Che molto probabilmente Voi nemmeno interessava Però comunque Ve l'ho voluta dire Lo stesso Quindi Fatemi sapere Se c'è qualcosa Qualche rumore Che vi piace Maggiormente A livelli di croccantezza E morbidezza Così che potrei Regolarmi Sul prossimo video Ho fatto una piccola Modifica Invece di far uscire Video smr Ogni lunedì Far uscire un lunedì Sì è un lunedino In modo che Posso avere più tempo Per registrarli Montarli Tutto qui Questa era un'altra parentesi Io spero di avervi Fatto compagnia Fatemi sapere Cosa ne pensate Se vi piacciono anche a voi Questo tipo di Di video Questo tipo di biscotti O anche se vi piace L'acqua Vi mando un bacio Noi ci vediamo Al prossimo